e questo è il laghetto all'interno del parco del gelso ci sono veramente tantissimi animali guardate e là in fondo se vedete dietro la fontana ci sono anche i cini che noi abbiamo visto l'entrata questo è veramente un polmone verde all'interno di gea marina e questa è la seconda parte della valle preistorica guardate che spettacolo e la potete farvi una foto e qua c'è l'altra parte e lì potete farvi una foto grazie